Radunanza annuela della Pt, la pruma del 2014 o la che il direttivo dell'azienda per il turismo defassa la scontrazione e sozzi. La scontreda o la che l'estate portadante appro al bilancio del 2013 sarà su con un nutto di 62.000 euro, appede una relazione sulla stagione passata e l'attività di questo inverno. La radunanza annuela è stata l'occasione per la mobilità turistica. Per il servizio del Kibus costa più che un milione di euro, per la Pt de Fassa il bilancio è positivo e ci integrà alla collaborazione di hotelieras. 360.000 euro le cedole svenute. Gli operatori hanno risposto bene, hanno venuto, hanno dato una bella mano e spero anche che questo è quello che viene portandosi per l'anno che viene. Buono il bilancio per la stagione passata e c'è bene il tempo. Va da ogni anno rispetto al 2012-2013 con un incremento del 3% della presenza e chi ne smilas sarà netta in più. Sicuramente è stata una stagione delicata, ha dato il tempo, le difficoltà che l'estate ha avuto il mercato di Fassa, ma credo che questo esito, con questa condizione, si può dire che porta fuori ora il non-seg turistico di Fassa, quindi l'estate c'è una crescimonia dei mercati foresti. Abbiamo avuto un grande esito e una crescimonia dei russi, che c'è una crescimonia di circa 5% di più e quest'anno esito molto bene il mercato della Svezia. Abbiamo avuto un 20% di più e questo è un segnale forte che può essere un grande esito in questo di venire da questi paesi scandinavi. La risorsa resta un problema per l'azienda di promozione di Fassa che con fare i conti con del 17% di finanziamenti da manda alla provincia, già per quest'anno. 360.000 euro demanda. Accognerò un mingol sparaniero, un mingol da perduto, il bilancio, senza incidere magari la massa di una scominciativa diretta, però farò un mingol da perduto. Per fortuna siamo di tenere questa riduzione che è convenuta in più con lo Schibus, che è un buon esito. Troppo le scominciative di promozione portate da Dante in c'è per quest'està. Raurà andò alla Fiorentina, a Moena, dai Neff ai 20 di Mezzel, a Pede a 3 Nevers di Valuta. Le scominciative delle Neve sono avute a questo Festival Neff a Ciampedell, il Festival Le ha all'outdoor, il fatto che Gazzetta dello Sport venne a investire, che ho fatto con i camp dei Becci, questo sicuramente è un progetto molto importante perché Verce, diciamo, la monta a Becci e Neves e anche questa settimana le ha dai Sons delle Dolomites, ora che ho tre appuntamenti questa settimana e cercherò di far venire della gente al Do. In Dianalara, Donanza, è stata usata fuori al bisogno di una scuola per la formazione di autocalità da metà al sud e a fascia. Una scuola di alto livello sulla formazione proprio dei manager dell'hotelleria. che è stata una necessità data anche per la contrazione economica in questo momento, ma soprattutto per le difficoltà le ha del passaggio generazionale. che è stata una scuola di più. E' stata una scuola di più. E' stata una scuola di più. che è stata una scuola di più. E' stata una scuola di più. per te a far.